con me. Roberto Benigni l'ha delusa? Sì, moltissimo, moltissimo, perché con Benigni c'è stato un grande rapporto, soprattutto sull'ultimo film La vita è bella, abbiamo lavorato benissimo, è stato, io ho sempre avuto un rapporto fantastico con lui, con Nicoletta, sono rimasta molto male dopo, quando poi mi sono separata ed era Los Angeles che c'era la proiezione del loro film e io avevo chiesto di poter andare e lui mi ha detto che non c'era posto, allora voglio dire, io non avrei mai fatto una cosa del genere, a nessuno. Mi dice un suo pregio? Allora, il mio pregio è la tenacia. E un suo difetto? Non sono per niente brava, sono negata nelle relazioni, nelle pubbliche relazioni. Un difetto vero? No, un difetto vero, oggi come oggi è tutto relazione. Eh vabbè, però questo... E' un difetto vero, allora poi vabbè sono permalosa, sono testarda, sono... Testarda sembra un po' tenace, vabbè, prendiamo permalosa o per buono. Beh permalosa è bruttissimo. No, non è tanto...